Buongiorno a tutti, mi presento, sono Simonetta Tuccone, lavoro presso il Comune di Carmagnola dal 1997 come educatrice professionale nel nido Sebastiano Craveri. Mi candido con la funzione pubblica CGL perché penso sia importante tenere sempre aperto il dialogo con la pubblica amministrazione in modo da migliorare le condizioni dei dipendenti nell'ottica della tutela e del mantenimento dei diritti fondamentali. Grazie a tutti.